Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Prince of Persia della Scroo e in questo video vi mostro dove trovare il boss, il gran chio gigante. Siamo nei pressi del ponte sommerso, quindi si passa da questa parte qui, quindi utilizzate questo viaggio veloce, il villaggio dei pirati, andate qui a sinistra, arrivate qui, venite giù e poi fate questo percorso, andate in giù, arrivate in questo punto, andate avanti ed esattamente in questo punto qui troverete questa boss fight. Ovviamente vi serviranno determinati poteri, attivissimo. Per colpirlo ovviamente vi dovrete mettere da questo lato. Ecco qui, non è particolarmente impegnativo come boss, però insomma vi dà come drop un amuleto. Agonia atroce, i nemici sconfitti generano un'esplosione di piccole dimensioni che infligge pochi danni, ovviamente andandola a potenziare, questo amuleto può essere molto molto utile nei momenti più concitati dove ci sono più nemici. Niente di imperdibile, ma insomma, comunque potrebbe tornare utile. Detto questo, giovani, per questo video è tutto, come al solito grazie mille e alla prossima! Grazie a tutti!